Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e scusate per le condizioni e se sentite uuuuh, ma c'è un ventilatore, praticamente probabilmente in casa staranno 30 gradi e qualcosa, si muore, stamattina ne stavano praticamente 38-40, insomma una roba schifosissima, poi umidità al 70%, lasciamo perdere, si scoppia di caldo. Allora, andiamo sul mercato delle criptovalute, così spostiamo la testa altrove e pensiamo a cose belle. Market cap 297 miliardi di dollari con una bitcoin dominance che sfiora il 69%, praticamente quasi al 70%, arriva quasi vicino sui massimi storici. Se non sbaglio il massimo storico dovrebbe essere attorno agli 80-90%, sì infatti 87%, addirittura, beh, siamo parlati comunque del 2017 quando c'è stato un picco esagerato, insomma, bei tempi. Ora, il mercato delle criptovalute è assestato sui 68,7%, abbiamo un mercato prevalentemente in rosso con dei valori che sfiorano quasi il pari nella giornata di oggi, quindi non si è quasi mosso nulla, anche se vediamo che comunque la maggior parte delle criptovalute, tranne Binance che comunque sta facendo abbastanza bene, sta perdendo colpi sul precedente periodo di mercato. Ma sapevamo che agosto sarebbe stato un periodo dove tutti i prezzi delle criptovalute sarebbero scesi in maniera abbastanza costante, ma non significativa, ossia che avrebbero perso un 10-15-20%, ma non oltre quel prezzo. Troviamo Bitcoin che momentaneamente vale 11.400 dollari, Ethereum 212 dollari, Ripple 0,30, Bitcoin Cash 333, Litecoin 86 che dopo l'Halving ha perso in maniera importante, adesso andiamo a vedere negli ultimi 7 giorni, anche perché sono 5 più 7, sono a 12, quindi praticamente oggi facciamo 7 giorni, quindi una settimana dal giorno dell'Halving, quindi possiamo vedere cosa succede a Litecoin e poi insomma vediamo tutte le altre criptovalute. E una cosa importante, andiamo a vedere per quanto riguarda l'andamento degli ultimi 7 giorni, ossia Bitcoin fa il meno 3, Ethereum fa il meno 9 praticamente, Ripple il meno 7, Bitcoin Cash il meno 4, Litecoin il meno 12, questo quindi è un momento diciamo propizio non per acquistare, perché non sappiamo come andrà il mercato, dobbiamo stare attenti a valutare bene l'entrata a mercato, prendere in questo momento dove tutto il mercato sta andando diciamo in una direzione abbastanza simile, comprare una determinata criptovalute che sta nettamente andando in maniera differente dal mercato, perché sta perdendo tantissimo, è una scommessa sbagliatissima. Quindi possiamo vedere anche Trone che ha fatto quasi un meno 11, 11,5 nell'ultima settimana. Andiamo a vedere Bitcoin che lo troviamo, come vi ho già detto l'altra volta, abbiamo trovato una Golden Cross, questa Golden Cross è particolare perché l'angolo che si va a creare tra le due medie è abbastanza ampio e quindi questo significa che per ritornare a ritoccarsi il valore della Golden Cross deve essere quasi pari. Quindi cosa significa? Che acquistando in questo momento, nel momento in cui ci sarà un'ennesima Golden Cross, anzi Death Cross, al contrario, Death Cross è una Death Cross, ossia la 50 va sotto la 200, c'è sempre una significativa perdita, nel caso in cui c'è una Death Cross, rispetto all'acquisto nel momento in cui la 50 periodi è sopra la 200 periodi. Se invece andiamo a vedere la precedente Golden Cross, ossia in questo punto, se non sbaglio, aspettate, eccola qua, in questo punto, la 50 periodi praticamente diceva che se acquistavamo in questo momento, in questo frangente, in questa settimana, avremmo comunque in qualsiasi momento storico, anche rivendendo nella Death Cross, comunque guadagnato circa il, vediamo subito, scusate ma non so perché, ecco che, stava facendo una cosa strana, avremmo comunque guadagnato un 30%. Ora, rivedendo questa Death Cross insieme all'alta Golden Cross è quasi sullo stesso livello di prezzo e possiamo notare, in maniera netta, che è all'interno di questo cluster di prezzo che avevo segnato tempo fa, si sono verificate sia la Death che la Golden, quindi tra gli 11.000 e i 10.500, ormai è diventato un cluster di prezzo importante, infatti molto spesso ci rimbalza e ritorna su il valore di Bitcoin. Nel momento in cui andrà a rompere in maniera importante questo livello di prezzo, allora potremmo ritenere il pezzo di Bitcoin abbordabile e quindi conveniente, almeno per questo periodo di mercato, anche perché il Bitcoin si sta avvicinando anche lui all'Halving, all'Halving che dovrebbe avvenire circa tra 280 giorni, una cosa del genere, quindi meno di un anno. E questo comporta il fatto che nel periodo precedente all'Halving, quindi parliamo di circa un mese, due mesi prima, tre mesi prima, ora dipende dalle criptovalute, Bitcoin è una criptovaluta molto grossa, importante, quindi molto probabilmente potrebbe esserci anche un grosso periodo nel quale la criptovaluta vola, schizza di prezzo. E normalmente prima dell'Halving c'è sempre un pump esagerato della criptovaluta, come è successo anche per Litecoin per circa 50 giorni prima, dopodiché un crollo importante che potrebbe portare la criptovaluta a valere ancora una volta meno di un quinto del valore prima dell'Halving. Allora, momentaneamente come stavo dicendo, la criptovaluta sta facendo segnare dei momenti di perdita, anche perché qui come vedete c'è un momento di incertezza, il valore si sta consolidando su questo livello di prezzo, ma sono incerti perché comunque queste candele sono troppo piccole e quindi non sanno, il mercato non sa cosa fare. Andiamo sul giornaliero e possiamo vedere comunque che dopo aver ottenuto queste candele, importanti, la criptovaluta insomma sta rimanendo un po' sospesa su questo livello di prezzo, ossia quello degli 11.500, 11.500 che potrebbe essere un livello di prezzo interessante per vendere se avete acquistato prima della risalita, quindi se avessi acquistato qui, un prezzo importante. Altrimenti insomma, vedete voi dal punto di vista mio, nel momento in cui si va ad avvicinare ancora una volta a questo cluster di prezzo ci sarebbe ancora da acquistare, perché almeno questa è la mia strategia. Ora andiamo a vedere su Ethereum che anche lui si è fermato su un cluster di prezzo interessante, guardate qui in precedenza nel 2018 cosa ha fatto da settembre a dicembre, fermandosi proprio su questo cluster di prezzo che segna il valore di 190 dollari e 225 dollari, dopodiché è sceso in maniera importante sui suoi minimi. Questo invece si sta, diciamo, reggendo in maniera importante, la media 50 periodi e 200 periodi si sono avvicinate significativamente, questa cosa potrebbe interessare una pre-golden cross, che significa potrebbe crearsi questo gold debt e quindi in questa maniera andare a segnalare che il mercato non è pronto realmente a partire. Quindi cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare, dal mio punto di vista, almeno una settimana da un golden cross o da un debt cross prima di capire se il mercato ha preso realmente una direzione ascendente o discendente. Altra cosa, Litecoin, la criptovaluta che circa il 5 agosto ha fatto con questo picco, ha fatto segnare i 107 dollari, 107 dollari che poi sono crollati in maniera importante da questo punto a questo punto, al minimo, facendo perdere addirittura un 24% circa. 24% che significa che la criptovaluta si sta ancora assestando e sta risentendo dell'ex periodo di halving. Ora, quest'area, come vi ho detto, è diventata un'area di interesse per quanto riguarda il valore della criptovaluta, tant'è che se andiamo anche a mettere con candele da un giorno, possiamo benissimo vedere che molto spesso la criptovaluta si è fermata su questo periodo, su questo cluster di prezzo, tra i 95 dollari e i 77 dollari. Quindi, in questo momento, teoricamente, guardando lo storico del mercato e lasciando perdere tutta questa parte inferiore, è un prezzo interessante al quale acquistare anche la criptovaluta. Ora, come vi ho detto, dato che ha subito un halving, ancora non sappiamo come potrà andare. Anzi, guardando la media 50 periodi, potremmo ancora una volta avere un prezzo che va ancora più in basso e quindi andare a fare una dead cross all'incirca a questo giorno, quindi fino agosto, e poi magari con l'apertura di Binance US rivedere una piccola risalita. O magari anche una discesa, perché magari ci sono stati chi sta in America che non è riuscito a vendere la criptovaluta proprio perché non aveva la possibilità di accedervi all'interno del sistema. Bene ragazzi, grazie di aver visto questo video, vi ricordo di mettere un mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale e di andare a visitare la mia pagina Facebook, il mio account Instagram. Grazie e al prossimo video. Ciao a tutti!